cari amici cari amiche di ciclo web caro tutto il circondario amanti della ciclo letteratura dove eravamo rimasti rubo questa frase a un celebre qualcuno saprà qualcuno coglierà a un celebre presentatore televisivo che tornò in tv dopo una brutta disavventura con la giustizia ma nel mio caso non c'è nessuna disavventura di mezzo perché si è interrotta la ciclibreria a un certo punto semplicemente perché sono stato travolto dalle corse dalla stagione ciclistica nel mezzo del periodo delle classiche non ho avuto più il tempo per non dico neanche leggere ma neanche guardare i libri siccome io non voglio prendere in giro nessuno e quindi se parlo di qualcosa devo parlarne a ragion veduta non mi devo limitare a leggere insomma le due righe della contro copertina devo almeno avere un'idea di quello di cui parlo di quello che presento e quindi la ciclibreria si è interrotta così un bel giorno in primavera si è interrotta qualcuno mi ha chiesto ma che fine ha fatto tornerà sì certo tornerà perché comunque resta un appuntamento bellissimo che io adoro parlare di libri di libri sul ciclismo poi il non plus ultra quindi non vedevo l'ora di ritornare ad avere il tempo e il modo di dedicarmi a un po di sane ciclo letture e quindi ripartiamo tra l'altro come avrete capito insomma in questi anni noi navighiamo un po a vista ciclo web seguiamo un po il sentimento e quindi insomma come viene viene ripartiamo con una puntata della ciclibreria monocratica monotematica per meglio dire dedicata soltanto al nuovo libro del mese perché il vecchio libro del mese che è durato sei mesi praticamente il libro di beppe conti su fausto coppi insomma ha avuto abbastanza tempo per stare in copertina nuovo libro del mese nuova serie della ciclibreria autunnale invernale speriamo poi che possa proseguire stavolta anche nella bella stagione non vi anticipo quale sarà il libro del mese ma tanto se avrete letto il libro il titolo della della puntata di questa rubrica saprete di cosa parlo libro del mese vi ricordate le regole o se siete nuovi di queste parti ve le dico rapidamente se comprate il libro del mese sul nostro store punto ciclo web punto it il nostro e commerce su cui troverete una libreria ricchissima con tantissimo volumi sul ciclismo tutti opportunamente indicizzati quindi potrete filtrare per le vostre ricerche e trovare quello che più vi interessa prezzi imbattibili senza spese di spedizione cosa volete di più abbiamo aggiunto anche la possibilità di pagare le spese di spedizione per avere il tracking perché solitamente i libri li spediamo senza tracking però capisco che qualcuno voglia avere il tracking però non possiamo fare la spedizione gratuita col tracking allora dicevo libro del mese voi lo comprate insieme al libro vi spediamo uno dei portachiavi di ciclo web ormai celebri c'era anche quello verde ma non me lo sto trovando ce l'avevo qui fino a poco fa non lo so scompaiono le cose qui da me allora dopo quattro portachiavi ricollezionati al quinto ordine di libro del mese vi mandiamo una maglietta una t-shirt a vostra scelta una delle nostre t-shirt di ciclo web qualcuno è già arrivato in zona t-shirt che ha già collezionato i quattro portachiavi con la precedente edizione del libro del mese e quindi non gli resta che insegnare a porta vuota il match point il match point glielo forniamo con un libro uscito praticamente l'altro giorno uscito poche pochissime settimane fa fagianate scatti e scie scritto da riccardo magrini e luca gregorio è un dizionario sentimentale del ciclismo saprete ovviamente che magrini e gregorio sono i due le due voci principali di euro sport per il ciclismo riccardo magrini storico opinionista diciamo storico storica spalla del telecronista di turno su euro sport e in questo volume questo volume è un po un ideale prosecuzione delle telecronache del duo telecronache che gli appassionati ciclismo conosceranno se non se non di fama proprio di fatto perché poi ultimamente con il player di euro sport c'è stata una grande diffusione del verbo di magrini e gregorio il suo giovane partner che dire questo libro un libro semplicissimo si si beve come un cocktail leggero leggero ed è appunto un dizionario lettera per lettera dalla a alla z e ci sono tutta una serie di termini di definizioni ma anche di modi di dire del ciclismo e in particolare anche delle telecroniche proprio di riccardo magrini soprattutto perché gregorio sono arrivato da da poco però anche lui sai il fatto suo e vi assicuro che se conoscete un po le telecronache di magrini e gregorio andrete subito a cercare le voci più classiche di magrini ma dalla gente avrei dovuto dire faccianate come dice lui però tutto molto simpatico tutto molto light molto leggero si parla anche di diversi corridori beh che dire se amate lo stile un po divertito divertente un po cazzeggione stavo per dire va bene penso che lo si possa dire di riccardo magrini e di luca gregorio penso che questo libro possa fare al caso vostro vi possiate ritrovare possiate divertirvi possiate passare qualche serata amena con questa lettura nell'attesa che poi da gennaio ricominci la serie infinita di telecronache della stagione ciclistica miciola tipica espressione della val di nievole va bene dopo vi leggo veglione del tritello è inevitabile andare a cercare queste queste voci praticamente veglione del tritello espressione usata nelle nostre delle cronache insomma diciamo è un complemento ideale per la fruizione delle telecronache dimagrini è gregorio cane vecchio sa frase pronunciata in origine da un allenatore croato di cani che però si adatta bene anche ai corridori più esperti nelle battute di caccia un vecchio segugio lasciato libero in una radura non si agita come quelli giovani non abbaglia non va in giro a vuoto e non perde la calma pare che alla domanda di un cacciatore questo allenatore rimasto anonimo rispose cane vecchio sa non te preoccupi tranquillizzandolo sul fatto che l'attempato animale avrebbe trovato la selvaggina senza problemi e al momento opportuno nel ciclismo il parallelo calza a pennello mentre il corridore giovane freme e sperpera energie per via della sua foga e della sua inesperienza incappando in grossolani errori tattici quello esperto si muove con un'altra sicurezza e sa colpire al momento giusto conosce meglio se stesso e movimenti del gruppo e degli avversari fagianate scatti e scie di riccardo magrini e luca gregorio con prefazione di paolo condo dizionario sentimentale del ciclismo rizzoli del ciclismo rizzoli il ciclismo rizzoli Grazie a tutti.